È orribile quello che sta accadendo in questa città. C'è qualche problema? Aiuto! Sono famenici. Spietati. Più di diabolic. Dobbiamo ucciderlo. Lui è quell'ispettore. Jink. Ho passato tutto questo tempo a dare la caccia a un fantasma. Diabolic. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Ci sei. Andrea, c'è notammentppe un fai sul diario? Chi sei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.